ospedale di bolzano e il suo pronto soccorso ecco la novità tanto attesa e operativa dal 18 dicembre l'ambulatorio per le cure primarie e la continuità assistenziale un nuovo servizio per fare in modo che ogni paziente venga accompagnato e assistito al posto giusto evitando intasamenti al pronto soccorso automaticamente se uno con un dito gonfio viene in pronto soccorso intasa al pronto soccorso per le vere emergenze e questo con questo sistema si può evadere in quel senso che praticamente dopo la triage il dito gonfio va in un altro canale va dal medico di base dal medico generico e là viene curato e il paziente naturalmente contento perché anche pensando magari di averse rotto il dito capisce che non è così e le paure non ci sono più e così contento può andare a casa ma è anche una misura di educazione perché in fondo per la prossima volta sa che con un dito gonfio dovrebbe andare nel medico di base e non nel pronto soccorso il servizio sarà offerto dai medici di medicina generale e dai medici di continuità assistenziale ogni giorno sabato e domenica compresi dalle 8 alle 20 vogliamo ottenere diversi obiettivi il primo innanzitutto è quello di abbassare drasticamente i tempi d'attese pronto soccorso noi sappiamo che il pronto soccorso di Boliano è sovraffollato allora aggiungendo ovviamente un servizio in più perché di questo parliamo visto che c'è un ambulatorio in più dove c'è un medico in più e questi visiteranno quelle patologie minori che arrivano a pronto soccorso anche se non sarebbero pronto soccorso però è importante dare una risposta veloce tempestiva e qualitativamente valida al paziente tutti i pazienti con patologie di competenza della medicina generale valutati in prima battuta dal triage ospedaliero saranno trattati all'interno dell'ambulatorio cure primarie noi praticamente vediamo questo paziente e in base a quello che noi riscontriamo dopo la visita possiamo decidere se chiudere noi, dargli una terapia, finire diciamo con il nostro intervento, chiudere il caso oppure eventualmente se abbiamo bisogno di ulteriori esami, di rinviarlo nella linea del pronto soccorso normale. Da un lato l'obiettivo è quello di diminuire la pressione sul pronto soccorso dall'altro sarà possibile consultare un medico di famiglia anche nel fine settimana. C'è un'ulteriore tutela se il paziente viene avviato all'ambulatorio delle cure primarie e il medico di famiglia si accorge che in realtà può esserci dell'altro sotto viene immediatamente rigirato al collega del pronto soccorso che è l'ambulatorio vicino e si prosegue come un normale percorso di pronto soccorso. Quindi il paziente non rischia assolutamente nulla, l'operatore non rischia nulla, c'è una maggior selezione e una migliore selezione. Il nuovo ambulatorio per le cure primarie e la continuità assistenziale viene avviato come progetto pilota biennale, mira a coinvolgere sempre più i medici di medicina generale.